Una delle star italiane più amate, attrice che si è affermata a livello internazionale imponendo il fascino mediterraneo e un talento istintivo, prendendo parte a film di grande successo come Il Postino con Massimo Troisi, nonché da molti anni attiva anche come produttrice di opere mai scontate, ma anche nel sociale con la Ollus Vite Senza Paura. Maria Grazia Cucinotta, madrina per acclamazione dell'Eco Film Fest, è sbarcata in città per raccontare la sua carriera, ma soprattutto il suo impegno in favore delle donne vittime di violenza. È vero che la donna adesso può fare tutti i tipi di lavoro, però non è agevolata nel lavoro, perché quando la donna diventa madre viene penalizzata nel lavoro, quindi ancora devono essere fatti tanti passi per riuscire a portare la donna a essere libera di lavorare, facendo anche la madre, la moglie, continuando ad essere donna. e tante volte invece le donne in carriera rinunciano, non rifiutano a diventare madri proprio perché non c'è la possibilità di un figlio all'interno di una carriera, cosa che invece è molto più facile per gli uomini. Però sono tutte cose che spero che piano piano finiscono, cioè che ci sia maggiore autonomia. Le donne hanno patito molto, soprattutto in questo periodo di lockdown, pensiamo ad esempio alle violenze in famiglia. Beh, la violenza devo dire che durante il lockdown è stata molto accentuata dal fatto di essere stati costretti a restare chiusi con l'uomo violento. Non è stata solo per la donna, ma questo è logicamente arrivato anche ai bambini. Ci sono arrivate tantissime denunce da parte anche di madri perché comunque anche i ragazzi venivano picchiati. Altro tema è donne per le donne, ma esiste anche il maschilismo delle donne? Soprattutto, guarda che il peggior nemico delle donne sono proprio le donne. Quindi le donne devono imparare a non puntare mai il dito, a non giudicare, perché una donna, una madre che punta il dito e giudica la donna per come si veste, per com'è, fa crescere un figlio violento.